Metal 2000, infissi in legno, alluminio, infissi in taglio termico, infissi in PVC e persiane in alluminio e in acciaio zingato verniciato, basta gamma di colori, preventivi gratuiti. Riprogrammato per domenica 15 dicembre a Cava dei Tirreni il terzo memorial di calcio intitolato a Mario Pannullo, scomparso quattro anni fa, già assessore alle attività produttive per il comune di Cava e fondatore del club Cava Sviluppo. L'evento è organizzato congiuntamente dall'associazione Malusa e dal comune. Dopo ben due rinvii per avverse condizioni atmosferiche, il quadrangolare è stato fissato dunque per domenica, non più al campo sportivo di Santa Lucia, ma al Simonetta Lamberti, impianto concesso in via eccezionale dall'amministrazione comunale. Le squadre di calcio che parteciperanno all'iniziativa benefica saranno queste. La prima è composta da RTC Quartarete e Cava Sviluppo, la seconda dai tifosi della Curva Sud Catello Mari, la terza da Croce Rossa e Trombonieri Sant'Anna. La quarta squadra vedrà presenti membri di Amiamo Cava, Malusa e Amici di Mario. Sarà presente al quadrangolare anche Claudio De Rosa, capitano della Cavese, il quale ha partecipato anche attivamente al progetto. Si giocherà dalle ore 9 alle 13, con collegamenti in diretta anche sulla nostra emittente. A presentare l'evento da bordo campo, Nunzio Siani. I proventi dell'iniziativa saranno investiti per acquistare una giostrina per diversamente abili da installare nella villetta di Santa Lucia, già intitolata alla memoria di Mario Pannullo la scorsa settimana. Colgo l'occasione stamattina di ricordarvi che vi aspettiamo domenica 15 allo stadio Simonetta Lamberti per il terzo memorial in nome di Mario Pannullo. Mario era solidarietà, era unione tra associazioni e il suo obiettivo era di aiutare le persone. Io con la mia associazione e con mio marito vogliamo portare avanti questa cosa fin quando avremo voce, perché è giusto dare voce a chi non ha la forza di farsi sentire. Infatti è il nostro motto. Quindi come già ci avete aiutato in precedenza, infatti con l'altro memorial l'abbiamo donato per l'autismo, quest'anno vi aspettiamo in tanti. Continuate ad aiutarci perché così renderemo questa villetta che abbiamo intitolato a lui stamattina ancora più avvicinabile. Perché dico questo? Perché si è aperta a tutti, soprattutto alle persone che hanno delle disabilità e quindi senza limiti, senza confini, unione tra di noi.